Grazie a tutti Sì, questo è sicuro che se non puoi sbagliare con la scuola. Sì, però ci sono stati mecenati, in particolare i cardinali, adesso questo non è specifico, come se se qua non lo c'è. Non c'è, non è il regno della chiesa, è stato anche il capitano al gioco. Il capitano al gioco, come dice la festa, è stato molto difficile. Il capitano al gioco, come dice la festa, è stato molto difficile.